E ragazzi, come va? Io sono FiereNiki E io sono Steph, e che si chiama Roblox E oggi siamo su TinyTanks Ci stiamo proprio impegnando a trovare mappe strane di Roblox, non trovi? Sì, ma sono davvero bellissime Allora, cosa siamo? Siamo dei carri armati Dobbiamo farci la guerra a vicenda, conquistare degli obiettivi E ammazzare il team a versare Siamo contro? Sì, siamo sempre contro, ma non è possibile Se vedi, praticamente, quando tieni la base, fai dei punti Credo che quando finisce il tempo, chi ha più punti, vince Semplice, semplice Ovviamente possiamo potenziare il nostro carro armato Possiamo fare tutto, ma soprattutto possiamo fare la guerra Che è la cosa più importante È bellissima, è davvero bellissima L'abbiamo giocata a 5 minuti e ne abbiamo fatto No, dobbiamo registrarla perché è davvero troppo, troppo divertente È super divertente Allora, io voglio provare a comprarmi i bouncy missili Io sono all'obiettivo B Ok, arrivo, cara All'obiettivo B, se lo vuoi sapere Se lo vuoi sapere, sono qua a far fuori tutti Ma avevo impostato i bouncy Sì, dannazione Una Due Schiva, schiva Aiuto, c'è troppo gente Tre Ci sei anche tu Quattro Ma hai fatto fuori, sei stato tu Non hai capito Disgraziato Ho fatto 5 kill Anzi 4 Wow, bravo 5 adesso Bravissimo Ripreso B, aiuto Comunque avevamo fatto una super rissa lì in mezzo E non si capiva più nulla Sì, sì Forza Consolini, ce la possiamo fare 42-59, state ancora vincendo voi Eh, siamo abbastanza forti, sì Vi siete presi un bel vantaggio Ti uccido Ti uccido Ti uccido Ti uccido Ti uccido Sono morto Eh, sì, mi dispiace Sono morto, donnazione Adesso vado a puntare all'addi nascosto Io sto anche potenziando il carro armato Ma non vedo così tanti miglioramenti, lo sai Tipo, cosa hai provato? Tutto Che vuol dire tutto? Sei presente dove vuoi prendere le monete? Sì Che puoi potenziare la torretta, il cannone e il carro armato in sé Ok Ok, io ho preso il carro armato migliorato, quello di livello 2 La torretta di livello 2 e il cannone ancora no Però non noto tutte queste grosse differenze, ti dico la verità Ci avete preso pure il C ma non è possibile, guarda Sei in un team fortissimo Sì, sono in un team di Consolini davvero forte Il missile a distanza Vieni qua Ma io voglio sfidare solo te, voglio distruggerti Ma che cosa vuoi distruggere? Dove? Ah, aiuto Eccoti, ti vedo Sei all'obiettivo C No, non venire Sei all'obiettivo C Non venire Sei al... No Con uno, cioè, sciotti con uno Io ne tiro sempre tantissimi Basta uno per ammazzare L'importante è che colpisca Il problema è che quando tu spari e spari su un altro missile, quel missile esplode Quindi con uno, di solito, di cui ci do ammazzare per quello, capito? Esatto, esatto Però io sparo sempre singoli colpi perché così vado proprio di precisione Ah, mi stai raccontando le tue tecniche di guerra, insomma Eh sì, sono gentile Condivido le mie tecniche Ma non è che tu hai aumentato la velocità Perché vedo gente che spara molto, molto più veloce rispetto a me Comunque sono molto offeso Perché? Ci avete fatto 160-80 Eh, mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Non mi sembra molto corretto Vittoria! Oh, possiamo votare la guappa Allora, facciamo Wood, che non l'abbiamo mai fatto Wood, ok Wood, sì Mi piace Mi sembra figa Sembra cose di West Io comunque, guarda Perché ci sono le classifiche Nel mio team sono arrivato primo con 14 kill Eh, vabbè Io ho fatto tipo 4 Ma che scarsa che sono Eh, vabbè Perché io sono... Da bambino giocavo con i carri armati Da bambino eri un carri armato E andavi, capito A giocare con gli altri carri armati Quindi sei esperto Bella questa! Dai, dai, dai Nuova mappa Sono dei rossi Ah, siamo insieme Siamo insieme! Ciao! Adesso perderemo assieme Ma non sei felice? Vieni con me Allora Andiamo al B Allora, andiamo a spaccare un po' Andiamo a comandare Quindi andiamo insieme Di rimbalzo Boom! Ma è pieno di missili Che paura Che uccisione incredibile, ragazzi Aiuto! Ci muoio Vabbè Ma questo è un muro Ma ci sono dei missili Che sono super veloci È quello che ti dicevo È di un super carri armato Tipo Nika Sanu O un nome del genere Ha il carri armato potentissimo È spara velocissimo È una roba incredibile Cioè, non fa schivarli Cioè, devi essere fresco Però anche uno dei nostri Ce l'ha super potente Ah, ok Quindi siamo Quindi siamo alla pari Allora, scusi Lasciatemi in pace Boom, 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 boom Non ci credo Come si sono salvati Carrafica Uh! Ma chi li ha sparati Tutti quei colpi? Ma io non capisco C'è qualcuno Che davvero si è preso Un potenziamento super E quindi sta spaccando È una roba incredibile Comunque c'è qualcuno Che lagga anche a bestia Sì, sì Lascia perdere Quindi lancio i missili Poi lo vedo, capito Blincare da un'altra fase Esatto Arriva, arriva, arriva Colpo secco Vabbè, bellissimo Mamma mia, aspetta Vai dall'altro lato Vai dall'altro lato Boom Ok Eh, vabbè Dietro, dietro Attento, attento Aiuto Ne hanno sparato troppi Ah, difficile Uno l'ha massato Io poi ho il microfono in mezzo Non vedo un lato Anche io sono sempre così Capito? Così cercando Di vedere attraverso la mia asta Mamma mia Allora Torno e conquistiamo Mi sembra la cosa più giusta Tu muori Che cos'è giusto questa roba? Cosa stai controllando senza di me? Senza dirmela? Ho scoperto che ci sono direttamente Delle versioni proprio del car armato differenti Tu vuoi potenziare la tua O cambiare totalmente il tuo car armato? Ecco perché ci sono car armati diversi Ho ragione io allora che non c'è solo questo Ho ragione Allora, il mio problema è quando qualcuno è alla mia sinistra Vieni, vieni Alla destra vedo tutto Alla sinistra ho l'asta del microfono E quindi mi possono colpire Uguale, uguale Quindi non vediamo Non ti posso coprire perché non vedo la tua stessa parte Aspetta che Mo mi fa sempre il furbetto Quindi mi devo un attimino concentrare su di lui Stavo arrivando da destra Boom Attento Dall'azione E a me va i colpi veloci Cerco di bloccarli prima che arriviamo Boom Ancora, ancora Vieni qua Dai mi ha preso di rimbalzo Si sono messi tutti ammassati Ed è impossibile riprendere la B Io passo così No Sei già morta? Sì perché è impossibile Stanno coprendo tutti i lati Allora dobbiamo andare assieme Non possiamo andare così Io sono al lato destro Capito? Così messi male Io vado al lato sinistro Dai cerchiamo di chiuderli Ok Attenzione Punto al C Punto al C che nessuno se la aspetta Ce la facciamo Ce la facciamo No c'era una mina Ah ah Penso di averla presa pure Ci stanno prendendo anche là Non è possibile Ah è possibile Ci stanno massacrando Mancano solo 30 secondi Dai ragazzi Cerchiamo di finire almeno con dignità No guarda che per ora siamo in vantaggio E quello è il discorso Stavano proprio recuperando di brutto Capito? No 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 Ma c'è tutto Tutto B C'è tutto blu Ok L'al è ripresa Oh ho schivato un missile Non so neanche come ho fatto 130 120 10 secondi No Uh mi è passato sopra Non so come sia possibile Io credo che ci siano dei missili Che laggano Sì sì Molto probabile Quello Molto probabile Abbiamo vinto Non tocco Però abbiamo vinto Bravi È stato impegnativissimo È stato molto impegnativo È stato molto molto impegnativo Oh prima anche il 13 Bravissimo E bim Meno uno Poi di rimbalzo No Due Ok Continuo all'avanzata Continuo all'avanzata Tu dove sei? In base perché sono appena morte No Ma c'era qualcuno Fermo qua Uh Uh Torno No vabbè sono miracolato Mi sono passati Sei missili Una bianca l'altra Non so neanche come ho fatto sopravvivere Quanti soldi dà comunque un'uccisione? Non lo so Non ci ho fatto caso No Perché tipo quando ti surrugge un missile Ti dà 5 che è pochissimo Sì ho notato Però secondo me una kill è tipo 200 Ok Il problema è che Anche se li amazzi Sono lì vicini Eh esatto esatto E quindi è difficilissimo conquistare Fare un punto Allora l'hanno già fatto Eh sì Ma quando? Ma come? Non lo so Ma perché? Non lo so Ma non è giusto Stiamo sempre perdendo Anche quando vinciamo pensiamo di perdere Quindi automatico perdiamo Guardalo Sì sì Di nascosto Così fanno loro Fanno tutto di nascosto E cercano di fregarti Però adesso Eh esatto esatto Fanno i giretti strani Ok Andiamo Uh uno l'ho fatto fuori Io attacco da sinistra E provo a fare un punto Basta È il mio momento Ho deciso che è il mio momento Scusi Mi lasci in pace Consolina Per favore E si è nascosta Facciamo così Ok Io sto Sto praticamente distruggendo quelli da destra Quindi cerchiamo di chiuderli Ok Eh io da sinistra Io da sinistra E sto arrivando Ho fatto uno kill Uno kill Io ne ho fatto tipo tre Non lo so Vai un'altra 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 Dai 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 Ce la facciamo Ce la facciamo Il centro è scoperto Il centro è scoperto Sparo un sacco di missili verso il centro Vado anch'io Vado anch'io Bum 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 Due kill Andiamo Fatta uno anch'io Vai 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 Ci siamo ci siamo Qualcuno Bum No ma quello lagga Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Dai stiamo dentro Stiamo dentro Eh ma quanto dobbiamo stare dentro Eh ma poi c'è impossibile Come cavolo facciamo Cioè loro poi sono attaccati Quindi tornano subito Mentre noi dobbiamo fare una strada lunghissima Non è possibile Però ho fatto un sacco di uccisioni Quindi almeno ho fatto un sacco di soldi Eh sì Almeno quello Almeno quello Abbiamo pareggiato E non so neanche io come Non so quando è successo Però abbiamo pareggiato Ho fatto dieci kill Sto migliorando È stato Adetopo Adetopo ci ha fatto fare Vedi ha un punto in capture Quindi lui ci ha salvato Dalla scoprita È stato l'unico che Vota Blocks Che sembra Belino E infatti scrive Grazie a me è finita pari Ha ragione Ha ragione Grazie Grazie Ci ricorderemo di te Sarai il Il carro armato Capito che ha fatto finire In pareggio La nostra partita Che cos'è questa cosa Troppo carina Non lo so però Rischio e mi cambio Il Il carro armato Il carro armato Io non so cosa prendere E mi compro il destroyer Che secondo me fa schifo Ok Ho attivato i miei colpi speciali E ne sparo solo uno alla volta Ok Però è esplosivo Ok Provo a prenderli anch'io Vediamo rocket Che esplosione che fa Allora Vediamo un po' Tipo 150 Allora Boom Dai è fortissimo È fortissimo Mami Boom Ma come si chiamano i tuoi? Ma cosa mi ha preso? Come si chiamano? I miei si chiamano explosive I miei rocket Anche i miei sembrano molto molto forti E cosa fanno? Eh non lo so È un razzo È velocissimo È sciotta Ok Capito È proprio un razzo super veloce Quindi tu lo lanci Vieni Seguimi 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 Arrivo Arrivo È dietro di te Eh l'ho visto Sto facendo un giro Eh ma lì ti ammazzano Guarda Ti difendo Bellissimo Guarda chi è che ti difende qui Guarda che ti mette i muri Non mi piace troppo sta classe Mi piace davvero un sacco Seguimi Te la consiglio sinceramente Tu sei gigante E io ho preso infatti quello super gigantesco Sei gigante Ah aiuto Eh no di rimbalzo ti ha fregato Ci sono rimasto malissimo Cioè è velocissimo Muro Muro mi proteggo Io sono lentissimo Bellissimo Sinceramente l'ho pagato 5.000 Ed è più brutto del tuo Io l'ho pagato 1.000 Che costava 1.000 Cioè com'è possibile che sta cosa Ho speso 4.000 di troppo Eh no te lo consiglio Sì sì davvero davvero bello Non è giusto Oh però mamma mia Stiamo vincendo solo di uno E sono morto io Parità Un solo minuto e siamo alla pari Un solo minuto e siamo alla pari Cavolo Ci serve una tattica Sì 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 Ascolta muoviamoci assieme Ok facciamo Perché io ho i muri Quindi ti posso anche proteggere Facciamo un'avanzata dalla destra Ok ho fatto una kill 33 pari E ti difendo Uccidilo uccidilo Bravo 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 Andiamo 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 Punto a lunga distanza quel momi lì Eh l'ho mancato Prendetelo Boom Ok Stanno vincendo di uno Siamo troppo bellini Assieme E sono minuscola rispetto a te Attenta Lancia un missile Cavolo Per pochi Cavolo L'ha parato Aspetta Aspetta Aiuto Non capiamo più nulla Ti hanno preso? Sì arrivavano missi da tutte le parti Non capiamo più nulla Allora ricompro i colpi speciali Stiamo perdendo di due E mancano 15 secondi Ok ok ce la possiamo fare Prova a fare l'eroe Prova a fare l'eroe Vai Momi Ok Ok 40 pari Ah ci provo Ci provo Arriva 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 Non ci credo Non ci credo Abbiamo perso di uno 41 a 40 Che vergogna Non è possibile Comunque sono morta parecchia 5 volte Eh anch'io Però ho fatto 4 kill Faccio schifo È difficile Poverina È difficile Mi sono anche dovuta abitare Alla nuova classe È davvero difficile Sei perdonata Sì però è bellissimo Lo sei divertitissimo Troppo divertito Ci giocheri qui tutto il giorno È fantastico Mi piace troppissimo Comunque ragazzi Ci fermiamo così per questo video Fateci sapere se vi è piaciuto Nel caso Ascettici tanti likes Perché io un secondo episodio Lo farei anche domani Da quanto mi è divertito Questa mappa È davvero super fantastica Voglio provare Tutti i tipi di carri armati Vedere tutto quello che c'è Perché è davvero Super divertente Comunque ci fermiamo così Beh ragazzi Se vi è piaciuto Ascettici un like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.